Sì, ci sono, ci sono, no, di là, di là, da sotto l'acqua, di là, da sotto l'acqua. Grazie. 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 E lui si è fermato lì perché adesso aveva un macchinario simile a una ruota che andava su piano piano. Ma qua c'è qualcosa. Ma quello che vedi è il fibo nostro, è rimasto impigliato.